Ciao, sono Mirko Gallo e sono il manager di Pizzazza Milano. Sono molto felice che è iniziato, perché dopo un anno di nuovo abbiamo bisogno di ripartire, 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 di ripartire. Sì, siamo pronti per presentare la nostra nuova collezione, la ultima collezione, la Marble collezione. È molto interessante perché è la prima collezione che abbiamo presentato una collezione in Marble, una nuova collezione con un nuovo tipo di collezione e così via. Abbiamo aspettato un po' di persone, di Europa, di design e di architetti, che sono interessati a questo. Grazie. 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 Grazie.